Si è spenta all'ospedale civile di Brescia Vittoria Barilarri, la donna di 50 anni vittima di un incidente stradale, lo scorso 2 giugno. La cinquantenne aveva appena festeggiato l'anniversario di nozze e poi in sella alla sua moto aveva avuto un incidente a Mantova a causare il sinistro, un guasto improvviso del motociclo. La donna era caduta sull'asfalto battendo violentemente la testa.